Da parte mia c'è stata e quindi chiedo scusa per questo. Ringrazio ovviamente tutti gli intervenuti, permettetemi di ringraziare però più di ogni altro Gioventù Nazionale, Paolo Ricciardo, Daniele Pellegrino, tutti gli altri ragazzi che hanno lavorato ancora una volta al presepe, alla realizzazione del presepe. Lo abbiamo detto l'anno scorso e vogliamo ripeterlo anche oggi. Il presepe non è per noi amministratori, si parla tanto di naicità dello Stato perché amministra.